Il progetto Resilario nasce a giugno, quando ci sono stati gli stati generali del Lago di Como, con la Camera di Commercio di Como e la Camera di Commercio di Lecco, che sono stati l'occasione per affrontare quelli che sono i temi più importanti legati alla gestione del Lago di Como, a come il Lago è riuscito a resistere, ad affrontare tutte le problematiche che noi gli abbiamo imposto fino a questo momento e quindi cercare di capire qual è lo stato attuale di salute del Lago, quali possono essere le sue problematiche e anche come risolverle. Da Resilario nasce tutta un'impronta didattica ed educativa che viene poi trasmessa al mondo della scuola in vari livelli per poter coinvolgere gli insegnanti in primis i bambini, a ricaduta le famiglie, su quelli che sono i temi più importanti legati proprio al nostro Lago, ha tutto il suo valore ecosistemico. Grazie alle Camere di Commercio sono nati una serie di laboratori proprio rivolti al mondo della scuola che prevedono dei videocollegamenti. Proteus, che è un centro di didattica ambientale, si occuperà di realizzare questi collegamenti con una persona immersa nel lago, in audio e in video, che possa interloquiare con bambini presenti in strutture ospitanti, quali possono essere sale conferenze, biblioteche, le aule scolastiche, il nostro laboratorio, per poter fare un'immersione non troppo virtuale, perché grazie a questo videocollegamento è proprio come essere sott'acqua con il subacqueo, perché ovviamente sono dei collegamenti in diretta che danno spunto poi per poter affrontare quelle che sono tutte le tematiche legate al discorso ecosistemico, al discorso dei rifiuti, alle variazioni di livello del lago, quindi tutto quello che i nostri bambini come cittadini del futuro potranno fare. Chiediamo sempre, ragazzi, non ve ne andate all'estero, cercate di studiare qualcosa che permetta di migliorare il nostro paese, il nostro territorio, il nostro lago, anche con gli studi che voi farete, perché è di lavoro da fare, ce n'è tante, quindi ci dobbiamo veramente tutti rimboccare le mani. Il progetto Lake Watching nasce ormai qualche anno fa, permette di valorizzare gli ambienti e gli ecosistemi sommersi del nostro lago direttamente in immersione, quindi mettendo in contatto diretto il subacqueo con il pubblico che per mille motivi in quel momento non è in acqua direttamente. Perfetto. Fa freddo? Sì, allora vediamo subito, ci sono, vediamo se ne è per inquadrarvi il computer. In questo modo l'attività subacquea e l'interpretazione della biologia e dell'ecologia degli ambienti sommersi lacustri diventa un unico insieme in cui si riesce a superare il limite del silenzio degli ambienti sommersi. Il pubblico può chiacchierare con il subacqueo, il subacqueo risponde e insieme condividono quelle che sono le osservazioni che in presa diretta fanno diventare il nostro lago sempre così diverso, sempre così peculiare. Altro aspetto da non sottovalutare è quello emozionale. Per me personalmente stare immerso è la sensazione più bella del mondo. Cercare di riuscire a trasmettere questo interesse, questa curiosità e questa passione a chi è dall'altra parte del cavo permette di rendere questo ambiente e questa attività anche di maggior valore, di maggior pregio.